A Lentini festa per il primo compleanno di Euronics. Euronics spegne la prima candelina a Lentini, un traguardo festeggiato stamattina nel punto vendita di Viale Kenne di 6 con il taglio della torta, ma soprattutto con l'annuncio di un incremento dell'offerta lavorativa. Non solo, è stata lanciata la campagna promozionale sotto costo che prevede sconti interessanti su quasi tutti i prodotti in vendita. L'obiettivo più importante dello store gestito dall'azienda Lionti, affiliato al gruppo Bruno da oltre 20 anni, è di consolidare il rapporto con il territorio, guardando al futuro con ottimismo, sia per rispondere alle esigenze del mercato in continua evoluzione, sia per creare nuove possibilità occupazionali. L'azienda ha deciso di aumentare il personale lavorativo di 5 unità, portando a 12 dipendenti che operano nel negozio di Lentini. Lo store Euronics di Lentini è anche investito su green economy e sostenibilità ambientale, realizzando un impianto fotovoltaico in autoconsumo. Per la speciale occasione inoltre è stato realizzato un reparto dedicato al mondo dei più piccoli toys della Lego, che è stato inaugurato proprio questa mattina, arricchendo i mille metri quadri espositivi su cui si sviluppa l'azienda. All'anniversario presenti gli imprenditori Emanuele, Elvis e Gaetano Lionti, Dario Crisapulli, responsabile divisione affiliati e socio Bruno S.P.A., insieme ai colleghi Giuseppe Pulvirenzi, responsabile commerciale divisione affari e Daniele Patania, Omni Channel e service director Bruno.